Il rammare con l'amarezza di non aver fatto il risultato contro questa Juventus è un Juventus troppo forte, però questa Atalanta ha detto la sua. Ce la siamo giocata, poi l'episodio del rigore è sbagliato e dopo pochi secondi il gol subito ci ha un po' tagliato le gambe, però la partita l'abbiamo fatta, sono contento, i ragazzi non ho gran che dare in prova taglie. Tritico terribile, sette giorni, tre partite, Fiorentina, Inter, Juventus, poi uno guarda i punti e non ne sono arrivati, però questa Atalanta è piaciuta. A me sì, l'Atalanta manterrà questa filosofia, questa voglia di fare calcio, questa voglia di giocarsela con tutti, credo che anche quest'anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni, però dobbiamo ripetere queste prestazioni e non farle diventare isolate o meglio gare che tu hai fatto così perché magari giocavi con grandi squadre. Le dobbiamo ripetere anche con squadre come noi perché solo così potremo fare un campionato importante.